Marina Marina se n'è andata esattamente come ha voluto e deciso, da grandama quale era scrive la rivista, .m. Il destino le ha voluto però giocare l'ultimo atroce scherzo. Negli ultimi giorni di insopportabile dolore, il suo pensiero è sempre stato per l'amato marito Carlo Ripa di Meana. Grazie a tutti. . 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